Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Oggi siamo in un nuovo LTS che si chiama Fortnite Battle Quindi è insomma una sorta di Fortnite però su GTA Quindi insomma è un LTS, come sapete è un LTS quando muori insomma è finita Quindi allora ci dobbiamo buttare, esatto E praticamente poi qui sotto dobbiamo prendere ragazzi tutte le armi che ci sono Insomma eliminare i nemici Ovviamente siamo a squadre, non siamo da soli Ci sono squadre con tante 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 persone Allora atterriamo qui Perfetto sono già atterrato L'arma noi già ce l'abbiamo però vorrei raccogliere ovviamente io qualcosa Quindi c'è già della gente che sta Ecco qui ce n'è uno vai iniziamo a mitragliarlo Vai così Ok questo è morto ragazzi senza neanche essere sceso Allora qui ho preso tantissime cose Via 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 Copertura Allora c'è qualcuno però C'è della gente Vediamo lì ragazzi c'è qualcuno Noi ovviamente andiamo al massimo di RPG eccetera Uh qui ne sta atterrando uno Vieni qua No questo qua non se ne può andare via Non se ne può andare via Vieni Ok ragazzi mitragliato Mandato al tappeto pure lui C'è qualcuno però lì in fondo C'è chino non è over no 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 c'è chino niente ragazzi Allora vediamo vediamo mi avvicino C'è qualcuno Fermo lì Eh mi sa che dobbiamo andare di RPG Per andare al 100% Questo primo round sta andando Veramente benissimo Allora lì c'è ne è uno RPG È sopravvissuto Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Capriola Ok ragazzi L'hanno ucciso Mamma mia Mamma mia Cioè sono quasi morto Dovevo sparare il colpo Più lontano Capriola RPG per lui Salto in aria È morto ragazzi Perfetto Distrutto Dovremmo aver vinto Perché non c'è nessun altro Giusto Vero No ne rimane uno Che è nascosto forse È nascosto al radar Ragazzi Allora dove che si trova questo Non lo so Eh su Fortnite comunque I giocatori non li puoi vedere Quindi È leggermente diverso Qui ragazzi Uh Qualcuno è stato cancellato Va bene Dov'è che sei Dov'è che sei Oh Eh non sapevo la sua posizione Sono morto Abbiamo perso così Incredibile ragazzi Incredibile Quello lì Ha eliminato tutti Niente Devastante Si è messo nascosto al radar E ha ucciso ragazzi Tutta la mia squadra Praticamente Compresso me Secondo round Si riparte Allora questa volta Deve finire meglio Cioè prima era andata benissimo Devo dire Veramente Veramente benissimo Però poi purtroppo È finita Male Perché uno È andato nascosto Allora io questa volta Me ne vado un po' lontano Da tutto Ok Vado ragazzi Esattamente qui Ok Perfetto Atterraggio è andato Prendiamo le armi Mitraiamo subito lui Ok perfetto Mamma mia Cioè quello è È mezzo caduto È mezzo È mezzo L'ho mitragliato Insomma è morto Allora Qui i nemici Sono un bel po' lontani Io però adesso ragazzi Me ne andrò nascosto al radar Dopo Non ora Ma dopo Forse rimane l'ultimo sopravvissuto No rimangono gli ultimi due Eh ragazzi Io qui me ne vado nascosto al radar E li vado a prendere proprio Subito Vai Chiamiamo l'Ester Intanto mi avvicino Mi avvicino un po' Nascosto al radar Vai salta Ok perfetto Cioè col cellulare aperto E con la chiamata Non mi faceva saltare Non so come sia possibile Comunque ragazzi Sono nascosto Ora li devo semplicemente andare a prendere Non ho granché Però ho il lanciagranate Quindi Vediamo Scavalca tutto Ok Allora C'è qualcuno Lì sotto Non lo so Ci servirebbe un bel cecchino Un bel cecchino Per fregarli Ok RPG preso Vai Abbiamo cinque colpi Io sporo un colpo lì ragazzi A caso Vediamo se lo prendo No non è morto Vai qui sopra Vai Dai che ho pochi secondi Ancora Da nascosto E comunque ci sono tutti i compagni Qui accanto Ragazzi Gli altri si sono nascosti pure Andiamo Andiamo Velocità Velocità Dobbiamo fare qualcosa di buono Cinque secondi Pochissimo Pochissimo tempo Vediamo un po' Se qui prendo qualcuno Ma sicuramente no Ragazzi Sparo un colpo a caso Niente Non ho ucciso nessuno Va bene Io non so dove sia C'è Ci dovrebbe essere un altro Oh Attenzione Spariamo un bel colpo Ok Non sono morto Via 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 Salta salta Sali 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 qui sopra Via Ok ragazzi Dovremmo aver vinto Perfetto Questo round L'abbiamo vinto E' intenso Perché all'ultimo Si nascondono al radar E diventa un problema Però un'uccisione L'ho fatta Terzo round Chi vince questo Vince praticamente La partita Ce la dobbiamo fare Dobbiamo Dobbiamo vincere Dobbiamo vincere Allora Riprendiamo il nostro Ora Paracadute Allora Aspettiamo un attimo Già volendo Qui Eh potremmo Si si Già Li potremmo mitragliare Comunque io mi butto Vai 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 Andiamo Apri subito Dove andiamo ragazzi Dove andiamo Dove andiamo Me ne vado Da questa parte Non c'è niente Non ci sono armi Lì Vabbè Qui dovrebbe esserci qualcosa Uno lì È già Atterrato Sono Ragazzi In difficoltà Sono in difficoltà Piano Ok perfetto Allora c'è un giocatore Praticamente qui accanto No perché si è buttato così Qui ci sono delle armi Che devo andare a prendere Però C'è un giocatore Praticamente qui ragazzi Che Ah forse è sopra È sopra forse Non lo so Non lo so Vabbè io vado Io vado Via via Ok andiamo a prendere Le armi buone subito Ok vabbè Non è che siano Granché poi Io avrei voluto Un fucile d'assalto Comunque spariamo Un bel colpo Di lence granate Vediamo ragazzi Se prendo qualcuno Sembra di no Sembra Uh lì ce n'è uno Vai 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 Capriola Mitraialo Mitraialo Ok ragazzi È morto È morto Sparato qui E c'è spugli Però lui è morto lo stesso I proiettili ce l'hanno fatta Ma qui c'è Oh no Sono fregato sicuro Sono fregato sicuro ragazzi Sono fregato sicuro Oh è ritor È ritornata la granata Cioè la granata doveva sbattere È al limite andare sotto No che ritorna dal Assurdo Comunque abbiamo perso Adesso ci andremo a rifare un altro round Di nuovo primo round Vai che ce la dobbiamo fare Per forza Io proverò a non uccidermi Cioè Proverò a non suicidarmi ragazzi Con le granate Anche se è stata veramente assurda Quella cosa lì Allora buttiamoci subito Via Apriamo il paracadute Armi 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 Quelle lì sono perfette Che c'è pure il lanciarazzi Queste qui ragazzi Sono eccezionali Armi Le ha già prese quasi tutte Sicuramente il compagno Vediamo un po' Mi lascia qualcosa No si è preso tutto Ok no Qualcosa è rimasto Va bene Allora adesso Rimaniamo qui Così comunque Ricompariranno Stiamo fermi Per ora Il problema è che anche lì sopra Hanno i lanciarazzi Quindi no Dobbiamo attaccare Dobbiamo assolutamente andare avanti Vediamo c'è qualcuno Capriola Eccolo Vai 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 Ok Mitragliato ragazzi C'è un altro Mitragliato pure lui Mamma mia Mamma mia Allora La vita Ce l'ho ancora al massimo Perfetto Anche se mi servirebbe il giubbottino Qui è ricomparso tutto RPG RPG dove sei Vabbè L'ho preso Si Forse mi è comparso dentro ragazzi Io non l'avevo visto Comunque Allora Quanti ne restano vivi Soltanto uno Che è sempre quello Che si mette nascosto al radar Però Per il momento è visibile Quindi andiamolo a prendere Vediamo ragazzi Se riusciremo a prenderlo Vabbè Per forza Non ci può eliminare di nuovo Tutta la squadra Sarebbe incredibile Sarebbe ragazzi assurdo Tutta la squadra eliminata Di nuovo da quel giocatore No Non è giusto Non è per niente giusto Allora Vediamo se da qui Qualcosa Riesco a fare Spariamo un bel colpo La Vai Boom No ragazzi È sopravvissuto Ma dov'è Ah lì Lì ho visto la testolina Non è morto Ok ragazzi È morto L'hanno fucilato Ma stranamente Non è morto Con le esplosioni Comunque round Vincitore Questo è l'importante Secondo round Vincendo questo Vinceremo praticamente La partita Quindi Insomma Dobbiamo riuscirci Perché Quella di prima L'abbiamo perso Un po' male Via buttiamoci subito E apriamo il paracadute Allora io mi vado a prendere Stavolta Quelle armi Più in fondo Vai che dovrei esserci Alla perfezione Stanno arrivando Un sacco di nemici Qui Allora sul tetto Sul tetto Sul tetto Vai così alla grande Prendi subito qualcosa Vediamo un po' Ragazzi C'è qualcuno qui Dov'è E' qui E' qui E' qui E' qui E' qui da questa parte Mitraiamolo subito Capriola Dai che muore Ok ragazzi E' morto E' morto E' morto C'è un altro Però qui sopra Mi serve la vita Dov'è la vita La vita La vita non c'è Ragazzi La vita non c'è E' vabbè Io mi copro Mi interessa Io mi copro Un po' da questa parte Io non so se quella BRPG eccetera Però è qui sopra Spariamo un colpo lì Vai Proviamoci Niente non l'ho preso Vabbè rischio Rischio Eccolo Vai RPG Ok ragazzi L'ho distrutto L'ho distrutto Ucciso Cioè Gli erano arrivati due colpi Uno mio E' uno di un compagno Doveva morire per forza Però il mio è arrivato prima E l'ho ucciso io Allora qui mi interesserebbe La vita Sinceramente Serebbe una cosa Molto ma molto molto utile Anche se comunque Siamo in netto vantaggio Sì ragazzi C'è soltanto C'è praticamente Tutta la mia squadra Possiamo dire che è viva E poi invece C'è soltanto un nemico Quindi Questo qua Dovrebbe morire per forza La cosa strana E' che non sono Andati in più Nascoste al radar I nemici Sono tutti rimasti Poi visibili Uuu Allora Hanno uscito un compagno Prendiamolo Da questa parte Vai Facciamo il giro Vai Che potrebbe essere mio Dov'è che sei? E' morto ragazzi L'hanno annientato Perfetto Abbiamo vinto la partita Ecco qui Ragazzi che direi Spero che gli sia piaciuto Abbiamo giocato Quest'LTS Che era una Cioè Ricreava Praticamente Fortnite Anche se E' totalmente Diverso Non c'è niente A dire Perché qui Non puoi costruire Vedi nemici Nel radar Mentre Insomma Su Fortnite Queste cose Non ci sono Ovviamente Ragazzi E' diverso Però insomma Era una cosa carina Che volevo portarvi Dato che Insomma Avevano creato Quest'LTS Molto Ma molto Particolare Io spero che il video Ci sia piaciuto Qui a Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo Video